Allora, adesso mi ritorni in mente gli anni d'oro di Romeo Anconetani e anche lui aveva comunque problemi con i campi, già allora si parlava della chiesatella dello sport e di quant'altro. Speriamo prima o poi di arrivarci, perché quando ricorderete si parlò di questo progetto a San Piero Algrado tutti eravamo finalmente contenti, perché insomma al di là dell'ospitalità che la base americana di Cup Derby dà, Grazie 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 Grazie